800 APS presenta Mazzini e il dissidio con Fabrizzi negli anni della tempesta e del dubbio di Luciana Lucchi Ebbi a lottare con il più grande dei soldati, Napoleone. Giunsi a mettere d'accordo tra loro imperatori, re e papi. Nessuno mi dette maggiori fastidi di un brigante italiano, magro, pallido, cencioso, ma eloquente come la tempesta, ardente come un apostolo, astuto come un ladro, disinvolto come un commediante, infaticabile come un innamorato, il quale ha nome Giuseppe Mazzini. Clemens von Metternich, principe di Metternich-Wineburg Nel 1836 Mazzini ha solo 31 anni, ma è già provato dalle vicissitudini affrontate a partire dalla sua adesione alla carboneria nel 1827. Stravolto dai sensi di colpa, sta effettuando una feroce autocritica del proprio recente passato, si sente responsabile dei lutti e dei dispiaceri che il suo agire ha procurato in coloro che egli maggiormente ama, i genitori, gli amici, i compagni d'esilio. Lui stesso definisce il biennio 1836-1837 gli anni della tempesta e del dubbio. Cosa gli è accaduto per provarlo a tal punto? Il primo evento accade nel 1830, quando Raimondo Doria, l'amico davanti al quale presta il giuramento di iniziazione alla carboneria nel 1827, confida il suo nome alla polizia piemontese, che il 13 novembre 1830 lo arresta e lo incarcera nella fortezza di Priamar a Savona. Per la prima volta Mazzini sperimenta sia lo sconforto del tradimento che la durezza della detenzione. Il primo mese non ebbe libri, poi ottenne una Bibbia, un Tacito, un Byron. Ebbe pure per compagno di prigione un luccherino, uccelletto pieno di vezi e capace d'affetto, che gli prediligeva. Aveva anche la sua chitarra sulla quale cantava amestamente, come l'abbiamo sentito tutti noi, a rare intervalli, in età più avanzata. Così Jesse White Mario descrive quel periodo in della vita di Giuseppe Mazzini, edito nel 1886, un'analitica biografia, dove la cronologia degli accadimenti è integrata dagli scritti autobiografici dello stesso Mazzini. Durante la detenzione nella fortezza di Priamar, Mazzini riflette sugli aspetti precipui della carboneria, individuandone i limiti nell'organizzazione faragginosa, nell'estrema segretezza, nell'assenza di un comune progetto di azione tra i vari circoli carbonari. Elabora così una nuova organizzazione, diversa per struttura e per modalità d'azione, e non vede l'ora ad essere scarcerato per costituirla al più presto. Ma non ha fatto i conti, coi progetti che ha in mente per lui, il conte Giuseppe Trincheri di Venanson, all'epoca governatore di Genova. Venanson lo pone di fronte alla scelta, o risiedere confinato in uno sperduto paesino piemontese, sotto la stretta sorveglianza della polizia, o lasciare gli stati sardi. Giuseppe opta per l'esilio, poiché ha la necessità di essere libero d'agire per realizzare il suo programma. Il 10 febbraio 1831, il giovane esule, col cuore pieno di entusiasmo, di poesia e di fede, rivolgeva dal Moncenisio l'ultimo sguardo alla terra nativa, sguardo misto di dolore, d'orgoglio e di esaltazione. Perché se soffriva ad allontanarsi dalla patria dove era superbo d'essere nato, presentiva però che ella risorgerebbe a nuova vita e che egli era predestinato ad infondergliela. Quella fredda mattina del febbraio 1831, quando Mazzini saluta i suoi cari, ignora che il commiato alle sue due sorelle e al padre sia in realtà un addio. La prima tappa dell'esilio è Ginevra, seguono Lione e Marsiglia. In quest'ultima città un nutrito gruppo di esuli italiani sta convergendo per giungere in Italia attraverso la Corsica e combattere a sostegno del governo delle province unite italiane. Sorto il 26 febbraio 1831, in seguito alla pacifica rivoluzione bolognese del 5 febbraio. Ad essi si aggrega anche Mazzini, ma quando giunge in Corsica le sommosse sono già state sedate. Rientra a Marsiglia, dove conosce Nicola Fabrizi. Tra i due fuoriusciti nasce una solida e duratura amicizia che resisterà nonostante le profonde incomprensioni del lustro 1838-1843. Mazzini, che non è riuscito ad avere un ruolo attivo durante i moti del 1831, sull'onda emotiva delle tragiche notizie che gli pervengono da Rimini scrive il pamflet Una notte di Rimini nel 1831, una vehemente accusa di gnavia contro Luigi Filippo d'Orlean, nonché la dimostrazione che, se l'Italia vuole raggiungere l'unità, deve contare solo sulle proprie forze. Quell'episodio rafforza in Mazzini il convincimento della necessità che tutti coloro che sono pronti alla lotta siano riuniti in un'unica associazione, nell'intento di restituire l'Italia in nazioni di liberi ed eguali, una indipendente sovrana. Così, nel luglio del 1831, a Marsiglia, Mazzini fonda la Giovine Italia e i primi tre articoli dello statuto indicano gli obiettivi ed i principi da realizzare attraverso la lotta per l'unità. Primo, la Repubblica, una e indivisibile, in tutto il territorio italiano, indipendente e libero. Secondo, la distruzione di tutta l'alta gerarchia del clero e l'introduzione di un semplice sistema parrocchiale. Terzo, l'abolizione di ogni aristocrazia e di ogni privilegio, che non dipenda dalla legge eterna della capacità e delle azioni. L'associazione La Giovine Italia verrà sciolta da Mazzini il 5 maggio 1848 per fondare l'Associazione Nazionale Italiana, che nel 1853 confluirà nel Partito d'Azione. Questi primi articoli dello Statuto della Giovine Italia consentono di cogliere quanti valori mazziniani siano presenti nell'attuale Costituzione italiana. Articolo 1. L'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro. Articolo 7. Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Quattordicesima disposizione transitoria e finale. I titoli nobiliari non sono riconosciuti. Mazzini inizia la sua vita da fuori uscito ed è entusiasta. Gli anni dal 1831 al 1833 furono due anni di vita giovine, pura e lietamente devota, come io la desidero alla generazione che sorge. Ma la Letizia è bruscamente interrotta dal ricevimento dell'ingiunzione di lasciare il territorio francese e soprattutto dalla cruenta morte di Jacopo Ruffini, uno dei suoi più cari amici. Nell'agosto del 1832 le autorità francesi gli ingiungono di lasciare immediatamente la Francia, ma Mazzini ha la necessità di restare a Marsiglia sia per coordinare le attività della giovane Italia che permettere a punto l'insurrezione che sta organizzando insieme ai fratelli Jacopo ed Agostino Ruffini, prevista per il giugno del 1833. Mazzini vive come un recluso nella sua stanza e in tal modo per alcuni mesi elude le ricerche della polizia, se non che alcuni affiliati genovesi della giovane Italia tradiscono i compagni, consentendo che la polizia arresti i cospiratori e blocchi la sommossa. Le corti di giustizia di Genova ed Alessandria istruiscono i processi avverso i sovversivi, alcuni dei quali sono condannati a morte, nonostante la sollevazione non sia nemmeno iniziata. Il Tribunale di Alessandria, il 26 ottobre 1833, condanna Giuseppe Mazzini ed altri contumaci alla pena della morte ignominiosa, dichiarando i medesimi esposti alla pubblica vendetta come nemici della patria e dello Stato. Sempre nel giugno del 1833, le autorità francesi scovano il nascondiglio di Mazzini, che deve trasferirsi a Ginevra. Jacopo Ruffini, che avrebbe dovuto guidare l'insurrezione di Genova, è arrestato il 13 giugno 1833. Incarcerato nelle segrete di Palazzo Ducale di Genova, subisce dei brutali interrogatori e per timore di rivelare i nomi dei compagni, il 19 giugno, tre giorni prima del suo ventottesimo compleanno, si toglie la vita. La prematura fine di Jacopo è il secondo tragico avvenimento che scuote Mazzini nei primi anni d'esilio. Jacopo mi fu amico, il primo, il migliore. Era abitualmente tranquillo perché ei sapeva che il fine della nostra esistenza terrestre non è la felicità, bensì il compimento di un dovere, l'esercizio di una missione, anche dove non vive possibilità di trionfo immediato. Jacopo e Mazzini sono accumunati sia dal genetriaco, entrambi sono nati il 22 giugno 1805, che della funesta esperienza di subire l'inganno da parte di coloro che reputavano amici. Nonostante gli arresti del giugno del 1833 abbiano decimato i cospiratori, Mazzini, indomito, continua nell'ordire una seconda spedizione in Savoia, prevista per il 3 febbraio 1834, data del terzo triste anniversario della congiura di Ciro Menotti e presaga del medesimo in fausto esito. La missione fallisce miseramente, nonostante l'impegno profuso da Mazzini e dei suoi compagni. Sebbene varie siano le ragioni dell'insuccesso, gli affiliati alla Giovane Italia le imputano a Mazzini. Scema così la stima e la fiducia in lui. Mazzini riflette profondamente sugli accadimenti, per comprenderne gli errori pagati col sangue e le sofferenze di tanti suoi amici, delle quali si sente personalmente responsabile. Eppure, nonostante la situazione, il 15 aprile 1834, a soli due mesi dalla disfatta in Savoia, a Berna fonda la Giovine Europa, un piccolo gruppo di esuli italiani, tedeschi e polacchi, sottoscrive l'atto di fratellanza redatto da Mazzini. La presenza di un'altra associazione non placa le critiche al suo operato. Iniziano gli anni della tempesta e del dubbio. Egli era solo, abbandonato da tutti, quasi da tutti vilipeso e deriso. Numerosi affiliati lasciano la Giovane Italia e Mazzini, per fermare tale emoragia, a metà del 1835 ne lascia la direzione. Ma le difficoltà non cessano. Nel 1836 le autorità elvetiche impongono lo scioglimento della Giovine Europa e ingiungono a Mazzini di lasciare la Svizzera. Nel gennaio del 1837 Mazzini parte per l'Inghilterra, nazione che diventa la sua seconda patria, trascorrendovi quasi tutta la vita. Mentre Mazzini è ripiegato sulle sue personali riflessioni, alcuni dei compagni, con i quali condivide l'esperienza e le difficoltà dell'esilio, si recano a combattere altrove. Giuseppe Garibaldi prende la via del Sud America, mentre Nicola Fabrizi, Ignazio Ribotti de Molière e altri ufficiali scelgono la Spagna. Per Fabrizi questa esperienza si rivela particolarmente formativa. Infatti trae spunto da essa per definire la struttura della legione italica ed intessere una solida rete relazionare con gli altri patrioti militanti conosciuti in Spagna, che gli promettono il loro pronto e leale aiuto. Tutto ciò rafforza in Fabrizi la fiducia di essere in grado di organizzare autonomamente una sollevazione, ed è ciò che farà nel 1843. Il 1838 è l'anno orribilis di Mazzini. Vive a Londra, in ristrettezze economiche, impegnato nell'apprendimento di una nuova lingua e nell'adattamento ad una società complessa. Inoltre deve affrontare due gravissimi lutti familiari. A breve distanza l'una dall'altra muoiono due sue sorelle, Francesca il 17 gennaio, Maria Antonia Carlotta Tomasina in Massuccone il 22 ottobre, mentre la sorella maggiore, Maria Rosa Caterina, era deceduta nel 1823. Alla fine del 1838 i genitori di Giuseppe, Maria Giacinta Drago e Giacomo Mazzini, dei loro quattro figli hanno vivente solo Giuseppe, l'amato figlio maschio, che risiede lontano da loro in povertà e con la vita completamente scompaginata dalla militanza politica. Ma per Giuseppe i dispiacere di quell'anno continuano. Infatti proprio nel 1838 Nicola Fabrizi fonda l'associazione cospirativa La Legione Italica, che, se nelle sue intenzioni ha lo scopo di essere esclusivamente il braccio armato della giovine Italia, di fatto crea una scissione interna all'organizzazione mazziniana e, del pericolo, Mazzini se ne rende immediatamente conto. Infatti, il 31 agosto 1839 Mazzini scrive a Nicola Fabrizi L'idea di tuo fratello che la giovine Italia debba essere teorica e la legione italica la pratica è, a mio credere, inverificabile. Teorica e pratica sono le due facce di una medaglia. Ma vedi più l'unità della medaglia. La giovine Italia ha precisamente per istituto il suo speciale di unire quello che è stato dissociato finora, principi ed azioni. È società essenzialmente e inevitabilmente cospiratrice. Di più, la pratica non può essere che subalterna alla teorica. La questione vitale è quella della molteplicità o dell'unità. Dell'unità, ripeto, o del federalismo, che con le migliori intenzioni del mondo noi corriamo rischio di sancir con l'esempio e al quale io preferirei l'inazione. Ti credo errato nell'idea che vagheggi della divisione in due lavori, morale e materiale, del lavoro unico che deve abbracciare l'insieme dei nostri sforzi. Ne credo che tu senta abbastanza l'importanza vitale per l'avvenire del nostro paese di fondare, o tentarlo almeno, un'assoluta, esclusiva, intollerante unità. Per tutto il 1839 Mazzini cerca di far retrocedere Fabrizi dai suoi propositi, ma dal 1840 in poi il suo atteggiamento muta. Mazzini impone ai suoi proseliti un out-out, o con lui o con Fabrizi. Lo scisma di Nicola è deplorabile. Verrà tempo in cui egli stesso se ne vedrà. È un'illusione che deve avere il suo corso. Non ho bisogno di dirvi che per ora ognun che appartenga alla giovine Italia deve tenersi assolutamente separato da lui e mostrarglielo. Nonostante l'ultimatum ingiunto agli affiliati, ugualmente Mazzini tenta in extremis di far rientrare l'associazione di Fabrizi nella giovine Italia. Intitolatevi legione, o bande di insurrezione della giovine Italia. Proclamate che la società è una sola. Proclamate che la decisione di ogni iniziativa insurrezionale deve partire dal centro rappresentante della giovine Italia. Salve coteste basi, mi troverete dispostissimo, appunto perché ho fiducia nel vostro cuore e nelle vostre eccellenti intenzioni ad ammettere quante condizioni secondarie vorrete. Ma da queste, e specialmente dal precisare in chi sta la direzione suprema dell'azione insurrezionale, non posso prescindere. Solo che Fabrizi rifiuta l'offerta di retrocedere dalle sue posizioni e la sola concessione che accorda Mazzini è che la legione italica sia la sezione armata per i principi proclamati dalla giovine Italia. Così scrive il 6 febbraio 1841 ad un suo affiliato. Ne consegue che la frottura è definitiva. Nel luglio del 1842 è Fabrizi a fare il primo passo di riavvicinamento, ma Mazzini rigetta l'offerta ribadendogli che la causa dello scisma è da imputarsi a lui solo, che ha voluto riservare esclusivamente alla sua legione italica il momento decisionale dell'azione armata. L'apice delle divergenze emerge nel 1843, quando Mazzini apprende del progetto cospirativo che Fabrizi ha organizzato ed invano tenta di bloccarlo. Due parole sul moto attuale, da prima, onde vi formiate idea giusta delle cose nostre in Italia. Il moto attuale in Italia è Giovine Italia. Fu proposto dalla legione italica, separato a un tempo, ma riunita da oltre un anno a noi come sezione armata e salve le forme adottate. Fu accettato dai nostri di Bologna, Zambeccari, Mellara, eccetera, e dietro quelli da altri nostri e non nostri. Fu operato con dissenso mio, fondato su ragioni lunghe a dirsi, alcune delle quali stanno, alcune sarebbero forse state rimosse dal piano d'azione che mi era da lungo promesso e che sventuratamente non partì da Malta per me che col 21 agosto, otto giorni cioè dopo che il movimento era iniziato. Così, Mazzini, il 15 settembre 1843, riassume al conte Giuseppe Ricciardi gli accadimenti del mese precedente, riferendosi sia al moto di Savigno del 15 agosto, condotto dai fratelli Pasquale e Saverio Muratori, sia alla marcia su Imola, organizzata dal generale Ignazio Ribotti, la notte dell'8 settembre, con l'intento di sequestrare i tre cardinali che soggiornavano nella locale villa cardinalizia di Torrano. Dunque, il moto di Savigno segna sia l'apice che la fine della frattura fra i due grandi padri della patria. Infatti, dopo l'insurrezione dell'agosto 1843, Fabrizzi comprende la necessità che vi sia un'unica organizzazione cospirativa che tenga le fila sia dell'aspetto teorico che di quello dell'azione. Cosicché, Mazzini diventa nuovamente l'unico direttore delle successive azioni cospirative ordite dalla giovine Italia. Seguono anni durante i quali Mazzini organizza diverse sommosse, molte delle quali fallimentari. Quando il 10 marzo 1872 cessa di vivere, l'Italia è unita, Roma è conquistata ed è capitale del Regno d'Italia. Manca la forma di governo repubblicana, ma affinché quest'ultimo suo desiderio si concretizzi, il 2 giugno 1946, dovranno concludersi due guerre mondiali e una dittatura. Mazzini e il dissidio con Fabrizzi negli anni della tempesta e del dubbio di Luciana Lucchi Tratto da Jour de l'Ou numero 32, maggio 2022 Letto da Marina Busi e Augusto Battaglini L'Ou numero 32, maggio 2022